Ciao amici di Social Artist, sono Silvia Nair, cantante, pianista, compositrice di canzoni e di colonne sonore per il cinema. È appena uscito il mio terzo album da cantautrice dal titolo Luci e ombre. Fa riferimento alle luci e ombre della quotidianità di ciascuno di noi, come le luci e ombre del viaggio della vita. Luci e ombre soprattutto insite nella natura umana. È un album pop e rock sinfonico, potente ma poetico, dirompente, esplosivo ma anche intenso. Infatti vede la presenza dell'orchestra sinfonica, chitarre elettriche distorte, bass and drums, cori ma soprattutto la mia voce, che risente delle influenze classiche e liriche ma soprattutto del pop e del rock inglese. Nell'album Luci e ombre ho investito anni di lavoro e di creatività insieme ad un team olandese d'eccellenza, capitanato da due grandi produttori artistici, Frank van der Heiden che ha collaborato con Michael Jackson, Justin Timberlake, John Legend, Justin Bieber, Celine Dion, DJ David Guetta e Michael Agrao. E vede anche come special guest due grandi artisti della scena internazionale, il tenore Vittorio Grigolo e il violinista David Garrett. È un album che si pone al di là delle mode, delle tendenze musicali, è un album senza tempo e senza confini geografici ed è stato concepito con una visione assolutamente internazionale e un sound contemporaneo. Luci e ombre per voi!